Abbiamo una sposa che liberamente, qui abbiamo una sposa Stefano Blandelloni 2020 che liberamente accetta, così diciamo spontaneamente, accetta di farsi intervistare, esatto, ha scelto un meraviglioso. Allora io qui sono con Re Carlo, Re Carlo qui il titolare dell'atelier. La sposa, il nome della sposa? Ex titolare, secondo me è il titolare ancora vero. E il titolare sotto sotto è il titolare. Poi la sposa? Enza. Enza che ha scelto un abito 2020 spettacolare che non possiamo dire niente, però proprio bello, eh? Cosa dice? Cosa dice Enza? È meraviglioso, altrimenti non l'avevi preso. Esatto, esatto, e poi esatto, e poi notate anche la spontaneità dell'intervista perché Enza proprio non vedeva l'ora di fare questa intervista, quindi esatto. Quindi intanto arrivano i messaggi, arriva tutto. Va bene, allora un saluto dall'atelier Pozzo in piazza Piediglotta, Napoli. Ciao. Un abbraccio da Stefano Blandelloni, del re Carlo e Enza, da una nostra futura sposa, testimonia splendida, napoletana. A presto, ciao a tutti, viva, ciao!